sapete come viene preparato il kebab che noi tutti mangiamo occhi ossa denti e sterco di cavallo a volte capita che occhi ossa scarseggino così magari si carica un po di più con lo sterco di cavallo quello ce n'è sempre in abbondanza se per qualche arcano motivo i cavalli magari sono un po stitici un periodo un po così allora si sostituisce lo sterco di cavallo con quello di tacchino ecco non poche polemiche sono sorte a riguardo proprio per la poca trasparenza con cui vengono smerciati questi prodotti talvolta si è convinti di mangiare sterco di cavallo in realtà è sterco di tacchino che poi se proprio vogliamo dirla tutta te ne accorgi subito che è sterco di tacchino perché ha quel sapore un po più delicato però questi sono dettagli se vi è piaciuto questo posto mettete un like e condividete